Risultati straordinari per l'economia pugliese e indici in crescita aumentano occupazione pile e capacità di spesa. Affitto la richiesta di anticipare almeno il 20% dei 4,6 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, confronto aperto con la Commissione Europea, assicura il Ministro. In 18 mesi sequestrati 300 milioni di euro e il bilancio dell'ultimo anno e mezzo di lavoro della Guardia di Finanza di Bari, in aumento le frodi fiscali, quelle nel settore dei carburanti, le cessioni in debite dei crediti d'imposta, i reati contro la pubblica amministrazione nell'ambito della criminalità organizzata. Il ricordo delle 23 vittime della strage dei treni del 12 luglio del 2016 sulla tratta Andrea Coratto, cerimonia di commemorazione davanti alla stazione del capoluogo, con una corona di fiori e un minuto di silenzio, stretti, in quel dolore è incancellabile. Il treno è il simbolo di vita e non deve rappresentare più un simbolo di morte, ha detto il Sindaco Antonio De Caro. Bentornati con l'informazione di Antenna Sud, continuiamo con le notizie da Bari, Labat e Foggia. Riprendiamo dall'Assemblea Generale di Confindustria nel capoluogo pugliese, affitto ai confindustriali chiedono di anticipare almeno il 20% dei 4,6 miliardi del Fondo di Sviluppo e coesione. Il Ministro assicura un confronto aperto con la Commissione europea, intanto nonostante gli indici in crescita per l'economia pugliese c'è chi chiede una cosa molto importante, l'Italia tutta ha bisogno di una politica industriale. Allora vediamo com'è andata questa Assemblea Generale di Confindustria a Bari. Ci sono i fatti e poi c'è il dibattito politico, se vogliamo stare al dibattito politico parliamo di quello che ci capita, se vogliamo stare ai fatti non so a quali tempi voi vi riferiate perché noi siamo dentro i termini dei regolamenti europei. Raffaele Fitto tiene la barra dritta e rassicura sulla rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza così come su terza e quarta rata. Michele Emiliano ne approfitta per una stoccata, Sergio Fontana invece da padrone di casa torna a battere cassa per chiedere l'anticipo del 20% sul Fondo di Sviluppo e Coesione ma anche di rendere strutturali misure come decontribuzione sud e poi un'unica ZES per il mezzogiorno. Succede sotto gli occhi del numero uno di Viale dell'Astronomia Carlo Bonomi, ospite d'onore dell'Assemblea Generale di Confindustria a Bari e Bat nel capoluogo. Se gli dovessimo rispondere che il quadro di coesione europeo e gli aiuti alle imprese per superare la questione meridionale, siccome ci sono difficoltà sul PNRR e sospeso per sette anni, io non lo so se usciamo vivi da qua dentro perché questi qui tra un po' cominceranno a dire, scusate, se avete sbagliato l'impostazione del PNRR perché ne deve pagare la nostra cultura d'impresa e la nostra propensione agli investimenti? La decontribuzione sud non sia una misura spot di un anno ma sia una misura strutturale. Noi chiediamo, il sud non ha bisogno né di assistenzialismo né di aiuti a pioggia, il sud ha bisogno soltanto di una cosa di politiche attive del lavoro. Il governo sta lavorando su questo sia per quanto riguarda la rimodulazione del PNRR ma anche per l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione e della coesione. Abbiamo un confronto aperto noi in questi giorni con la Commissione europea per poter avere la possibilità di utilizzare bene e meglio queste risorse. Tragedia zapponeta, due bambini di sei e sette anni muoiono annegati cadendo in una vasca di irrigazione agricola in quelle campagne. Si indaga per omicidio colposo. Andiamo a vedere in diretta gli ultimi aggiornamenti. Sì, eccoci, ben ritrovati a tutti voi. Siamo in diretta dalla località Fonterosa, tra i comuni di Manfredonia e Zapponeta. Quello che vedete alle mie spalle è il casolare vicino alla vasca irrigua di cui si parla in in queste ore dove la scorsa notte sono stati ritrovati i corpicini dei due fratellini di origine rumene di sei e sette anni dispersi dal pomeriggio. Nel servizio che stiamo per vedere abbiamo ricostruito quanto accaduto. Sentiamo. Si chiamavano Daniel e Stefan, i due fratellini di sei e sette anni ritrovati senza vita dai sommozzatori all'interno di una vasca irrigua profonda a tre metri e contenente 5.000 litri d'acqua in località Fonterosa, tra i comuni di Zapponeta e Manfredonia. Nella notte tra l'11 e il 12 luglio la procura di Foggia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni i due bambini di origini rumene si sarebbero allontanati dalla loro abitazione mentre i genitori riposavano nelle ore pomeridiane. Questi ultimi, allarmati dalla loro assenza prolungata, hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Le ricerche sono iniziate subito e proseguite per un paio d'ore fino alla scoperta dei decessi. Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi di due bambini potrebbero essere scivolati nella vasca oppure esserci entrati intenzionalmente. La presenza delle ciabattine fuori dal vascone farebbe propendere per la seconda versione. I familiari fanno sapere che i bambini non erano soliti fare il bagno nel vascone e che avevano ben chiaro il pericolo, ma probabilmente saranno scivolati nell'intento di giocare e inseguire le rane come facevano spesso. Agli investigatori il compito di individuare anche eventuali responsabilità per quanto accaduto. Con ogni probabilità il PM disporrà l'autopsia su due corpicini allo scopo di stabilire con certezza la causa della morte. Al momento è tutto, chiaramente se emergeranno nuovi particolari aggiornamenti vi teremo informati nelle prossime edizioni del nostro telegiornale, anche sui siti e sulle nostre pagine social. A voi studio. Continuiamo con il nostro telegiornale. In 18 mesi la Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per un totale di 300 milioni di euro. Nell'ufficio del Procuratore Rossi conferenza stampa per fare il bilancio delle attività delle fiamme gialle nel capoluogo. Guardiamo. L'operato della Guardia di Finanza va evidenziato perché contribuisce a recuperare denaro da investire in beni di pubblica utilità. Così il Procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, in una conferenza stampa con i vertici delle fiamme gialle del capoluogo regionale, il generale Roberto Pennoni e il colonnello Luca Cioffi. Illustrata l'attività svolta dal 1 gennaio 2022 ad oggi. Sequestrati beni per oltre 300 milioni di euro, principalmente in seguito alla lotta contro la frode fiscale. In particolare è stata evidenziata la scoperta della doppia contabilità, fenomeno che ha interessato in particolare diversi dentisti. Altro settore è quello delle indebite compensazioni, individuata dalle fiamme gialle una catena di false cessioni di credito d'imposta. Da qui è stato possibile anche appurare un percorso di riciclaggio. La criminalità in questo momento si sta sempre più infiltrando all'interno del tessuto economico e questo provoca una serie di problemi perché questa alleanza tra una parte della criminalità organizzata o comunque della criminalità e quella parte della borghesia economica che ritiene che violare le leggi sia un fatto irrilevante è pericolosissima. Importanti interventi poi contro le frodi nella commercializzazione dei carburanti e ancora i reati contro la pubblica amministrazione. Su questo fronte l'indagine sulla protezione civile della regione Puglia sono stati esaminati, hanno detto in conferenza, 250 affidamenti per un totale di 95 milioni di euro. Andare a intaccare quelli che sono i reati contro la pubblica amministrazione significa andare a tutelare il cittadino, la libertà degli incanti, la libera concorrenza nonché garantire al cittadino migliori servizi. Per fronteggiare l'evasione fiscale, le frodi, è necessaria anche la complicità dei cittadini? I cittadini devono comprendere che frodare il fisco, non pagare quanto dovuto è qualcosa che alla fine diventa un danno per tutti. L'equità fiscale nasce prima di tutto dal fatto che il dovere di pagare le tasse è un dovere di tutti. Avrebbe abusato di due minorenni mentre si trovavano nella villa comunale di San Ferdinando di Puglia, nell'Abat. Dopo le denunce delle vittime i carabinieri hanno arrestato a Bologna un uomo di 36 anni che si trova adesso in carcere con le accuse di violenza sessuale aggravata ai danni di minori e atti osceni aggravati. Gli episodi risalgono all'ottobre di un anno fa, quando l'uomo in questione, incrociando le minorenni, le avrebbe fermate impedendo loro di reagire. A riferirlo sono state le vittime che hanno chiesto aiuto ai genitori che si sono rivolti ai militari dell'arma. Sono partite così le indagini coordinate dalla procura di Foggia. Gli investigatori che hanno ascoltato le minorenni in modalità protetta sono riusciti a identificare il 36enne che aveva nel frattempo lasciato la Puglia per trasferirsi a Bologna. Nel capoluogo emiliano i carabinieri lo hanno arrestato eseguendo quanto disposto dal GIP del tribunale di Foggia. E adesso invece di aggiornamenti rispetto alle fiamme divampate nell'ospedale Miulli di Acquaviva. Ci è voluta poco più di un'ora e mezza per domare il fuoco. Le fiamme si erano propagate all'interno di un deposito al secondo piano interrato del nosocomio. Poco dopo mezzogiorno poi l'intensa colonna di fumo nera aveva fatto pensare al peggio. Però fortunatamente nessun danno alla struttura e nessun ferito. Il fumo l'ho visto, il fuoco non l'ho visto. Era sotto la mia camera e ho visto poco a poco di fumo. Ma che c'è un incendio? Mi hanno detto no, è tutto sotto controllo. Però poi il fumo aumentava molto, tutto nero. Ho visto il fumo che ero ricoverata dal reparto di cardiologia. Grazie all'intervento dei medici e dell'infermiere ci hanno subito evacuato. Un po' sì nel panico per 5 minuti, poi hanno aperto la porta e siamo stati tranquilli. E le scale di emergenza ci hanno aiutato molto. Prima il fumo denso e nero, poi la sirena dell'allarme e il panico che si scatena in pochi minuti. C'è voluta poco più di un'ora e mezza per domare le fiamme che sono divampate nel deposito merci al piano meno 2 dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Fortunatamente nessun danno importante alla struttura e nessun ferito. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, ma dalle prime indagini pare che si tratterebbe di un cortocircuito. La zona del rogo e il limitro fa quella del pronto soccorso. Da qui infatti sarebbero stati fatti evacuare pazienti e utenti della struttura, oltre ai dipendenti dell'ente ecclesiastico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme e a riportare la situazione alla normalità. È un deposito di scarso significato dove vi era un accumulo pare di materiale, di tute eccetera eccetera e quindi non riusciamo ora a comprendere. Certo dispiace appunto constatare oggi questo incidente, chiamiamolo così, in una struttura ospedaliera che tutti sanno quanto ovviamente è stata sino ad oggi attenta in ogni diciamo angolo. La protesta dei poliziotti, siamo senza risorse e senza organico, così scendono in protesta in varie città del territorio, anche a Bari. Per il governo i nostri sacrifici dicono valgono meno di mezzo caffè al giorno. Per il governo i nostri sacrifici valgono 24 euro l'ordio al mese, meno di mezzo caffè al giorno. Così i poliziotti, in protesta anche a Bari, lamentano la mancanza di risorse organico, scendono in piazza ai piedi della prefettura insieme ai sindacalisti della CGL e quelli della SILP per denunciare il dramma di un comparto sicurezza sempre più abbandonato a se stesso, dicono, nessuna attenzione straordinaria di personale per compensare i pensionamenti, spiegano, e ancora stipendi fermi, nessuna attenzione per le condizioni di lavoro e il benessere organizzativo dei poliziotti, mentre di pari passo esplode il fenomeno suicidario. 28 casi ad oggi, tra tutto il personale in divisa, solo dall'inizio dell'anno, queste le più importanti tra le criticità denunciate dalla categoria. Si tratta di riconoscere valore ad una funzione, che è quella dello Stato, che dovrebbe garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nelle nostre città, nelle nostre comunità. Siamo pochi, c'è una carenza organica che fa paura, che spaventa, che non può riguardare solo la Polizia di Stato, ma riguarda tutta la popolazione italiana. Pochi poliziotti, poche forze dell'ordine vuol dire mancanza di sicurezza. Questo governo ha usato gli slogan, ha fatto della sicurezza il suo punto cardine, ma di fatto vediamo che non si arriva ad una conclusione. Il ricordo delle 23 vittime della strage dei treni del 12 luglio 2016 sulla tratta Andrea Corato anche a Bari. Cerimonia di commemorazione davanti alla stazione del capoluogo con una corona di fiori, un minuto di silenzio stretti in quel dolore terribile. Il treno non deve più essere un simbolo di morte, ha detto il sindaco Antonio De Caro. Sette lunghi anni, ma la ferita è ancora aperta. Tanto è passato dal tragico incidente ferroviario sulla tratta Andrea Corato, che il 12 luglio 2016 ha causato la morte di 23 persone ed il ferimento di 57 passeggeri. Una pagina triste per tutta la Puglia senza precedenti ed anche a Bari istituzioni ed associazioni e parenti delle vittime non hanno voluto far mancare la propria vicinanza e il sostegno. Tante lacrime, altrettanta commozione in Piazza Moro, non un luogo qualsiasi ma quello dove è presente la stazione centrale. D'obbligo riflessioni sull'eredità che una comunità intera si porta sulle spalle. La Regione, ovviamente, per onorare il ricordo di queste vittime, sta lavorando a ritmi incessanti per garantire il diritto alla mobilità, che è un diritto previsto dalla Costituzione, non soltanto in termini di accessibilità ai territori, di velocità tanto richiesta dai cittadini, ma soprattutto in termini di sicurezza. Non possiamo lasciare il peso del dolore, di quegli affetti, di quei rapporti umani che si sono spezzati il 12 luglio del 2016 solo sulle spalle dei familiari e degli amici di quelle persone. Sarebbe un dolore troppo grande da sopportare, quindi lo vogliamo socializzare, lo vogliamo distribuire, le istituzioni, le comunità insieme. La sentenza di primo grado dello scorso giugno ha lasciato la mano in bocca. Condannati il capo stazione in servizio ad Andria ed il capo treno del convoglio ET 1021, assolti gli altri imputati, ma si preannunciano già ricorsi. Una sentenza vergognosa. Io ringrazio i giudici di questa sentenza, ma io non accetterò mai questa sentenza. Spero che tutti faranno l'appello. chiedo anche a Nitti, al procuratore Nitti, di fare questo appello e di valutare questa sentenza, perché noi non possiamo accettare. E adesso andiamo nel cuore della tragedia davanti alla stazione di Andria, con il dolore vivo addosso, perché abbiamo raccolto le voci dei parenti, di chi perse la vita quel terribile 12 luglio del 2016. Ci sono anche le parole strazianti di una madre, una madre che ha perso sua figlia in quel terribile scontro. E questa è la strada che il 12 luglio 2023, a sette anni dalla tragedia ferroviaria, hanno percorso Angela, Luisa, Franco, Domenico, madre, sorella, cognato e figlio di chi era a bordo del convoglio ET 1021, partito da Andria e diretto a Corato, schiantatosi contro un altro treno che arrivava dalla direzione opposta, sullo stesso binario. Una via di campagna dove non ci sono insegne e neppure più speranze, porta nel punto esatto in cui alle 11.06 del 12 luglio 2016 un boato improvviso in aperta campagna ha fermato le lancette degli orologi sui davanzali delle case di chi oggi, qui, non ha più lacrime da versare. Uccisi due volte, 12 luglio 2016, ferro tramviaria, 15 giugno 2023, giustizia italiana e lo striscione legato agli ulivi che quella mattina hanno assistito all'impatto, in prossimità del chilometro 51 della tratta ferroviaria che oggi gode di un doppio binario. I lavori, costati 90 milioni di euro, hanno permesso di riaprire al traffico la circolazione ferroviaria sulla tratta Ruvo-Corato-Andrea Sud lo scorso 3 aprile consegnando alla ferrovia un nuovo aspetto. I lavori e i milioni hanno ridato un ordine alle cose, ma non hanno cancellato le scene impresse nella memoria di queste persone, di questi fratelli, genitori e figli. Ritornare di nuovo indietro e fermare un po' il momento. Non la facevo partire, guarda. Non la facevo prendere quel treno, quell'orario. Eppure mia figlia corre, corre, si vede nel film, corre per prendere cosa? La morte. E non lo sapevo. Adesso sì, ritornare e fermare quel tempo. Avere mia figlia qui e non tanta istituzione. Perché rimangono solo istituzione bassa. Tra quegli ulivi anche quest'anno risuonavano le urla di dolore, le suole dei vigili del fuoco sulle lamiere, i singhiozzi nelle mani chiuse sul volto di quelli che piangevano disperazione. Tre anni e sei mesi di reclusione per il sovrintendente della Polizia Penitenziaria Domenico Coppi, un anno e due mesi per il medico dell'infermeria del carcere di Bari Gianluca Palumbo e assoluzione per l'agente di Polizia Giudiziaria Roberto Macchia. L'ha disposto il gruppo del Tribunale di Bari, Rossana De Cristofaro, al termine del processo di primo grado celebrato con rito abbreviato. I tre erano stati riviati a giudizio con altre 12 persone, fra agenti e medici della casa circondariale del capoluogo pugliese per le presunte torture avvenute il 27 aprile del 2022 a danno di un detenuto con patologie psichiatriche. Il giudice ha riconosciuto in favore di Coppi e Palumbo le circostanze generiche attenuanti, oltre allo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Per Palumbo è stata disposta la sospensione della pena. Quanto? A macchia è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Coppi è stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile con una somma che sarà decisa nell'ambito di un procedimento dedicato e poi condannato anche al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 5.000 euro. Secondo l'accusa, lo precisiamo, sei agenti della polizia penitenziaria, questo per ricordare quanto accaduto, avrebbero torturato il detenuto, allora 41enne, dopo che questi aveva dato fuoco a un materasso nella sua cella. Le violenze sarebbero iniziate lungo il percorso dalla cella all'infermeria con il personale che sarebbe intervenuto con violenze, si leggeva, gravi e agendo con crudeltà. Prima scaraventando l'uomo sul pavimento, poi colpendolo con calci e schiaffi sulla schiena e sul torace. Quindi questo in sintesi quanto è stato disposto dal giudice. Adesso andiamo invece, voltiamo pagina, andiamo in Consiglio regionale pugliese, Consiglio che si è chiuso nelle scorse ore senza il numero legale. Un disco verde arriva soltanto sulla proposta di legge in fatto di diagnosi del tumore al colon retto, però poi il centro-sinistra va in tilt sui debiti fuori bilancio e la minoranza parla già di sgambetto del Partito Democratico ai civici. Consiglio regionale che si chiude senza il numero legale con un disco verde all'unanimità accordato alla proposta di legge di cui è primo firmatario Fabiano Avati e che serve a sperimentare la possibilità di diagnosticare il tumore al colon retto attraverso un semplice prelievo di sangue. Il resto è una doppia presa di posizione del centro-sinistra che comincia con la discussione sulla legge per la transizione energetica provando a rimodulare il provvedimento iniziale con le indicazioni arrivate dalla Capitale dopo la bocciatura nella forma di emendamenti. Poi vira sul disegno di legge in fatto di debiti fuori bilancio che però si approva maggioranza qualificata e dopo il primo disco rosso sull'articolato si incaglia fino a liberi tutti. Soltanto incidente di percorso, dalla minoranza aprono il fuoco e parlano persino di boicottaggio ai danni di con da parte dei DEM. Se si conta che la legge porta la firma dell'assessore allo sviluppo economico Alessandro Dell'Inoci o in alternativa di sciatteria si vedrà anche perché in settimana approda in commissione il trattamento di fine mandato dai consiglieri prima della prova d'aula. se si è destinato al Consiglio persino prima della pausa estiva è tutto da vedere. Andiamo all'Oseto per alcune importanti opere pubbliche nella zona. Il futuro del quartiere Loseto a Bari tra lavoro d'incorso, altri imminenti ed ulteriori novità per la comunità. Questo il fine dell'incontro avutosi nella parrocchia del Salvatore tra i cittadini, l'assessore lavori pubblici Galasso ed il sindaco De Caro. La linea ferroviaria a Bari-Bitritto prima di tutto, treni operativi ad inizio 2024 con 14 coppie andate a ritorno distribuite durante l'arco della giornata tra i 13 ed i 15 minuti si arriva nel centro del capoluogo pugliese quindi i parchi cittadini 2 milioni per il secondo lotto con possibilità di spazi per le associazioni per il terzo si è in fase di progettazione esecutiva con possibile spostamento di tralicci novità anche per la viabilità con le rotonde tre per altrettanti incroci si parte con quelle previste verso la zona antica e su via Trabacolanti che verranno aviate entro fine mandato in un secondo momento si agirà su via Nuzzi partirà presto anche il porta a porta per la raccolta rifiuti mentre per il medico di base la cui carica è ora vacante ci saranno temporanee sostituzioni in base alla disponibilità di altri medici con spese per la gestione dello studio a carico della ASL per il cimitero inizio lavoro in autunno è sempre bello ascoltare la cittadinanza perché si toccano con mano quelle che sono le esigenze a cui tengono particolarmente sono proprio quelle esigenze a cui abbiamo dato priorità in questi anni di amministrazione a proposito di parchi e spazi verdi del quartiere spazio alla videosorveglianza contiamo di implementare il numero delle telecamere installate allo seto un'attenzione particolare verrà riservata proprio al Don Vito Marotta che è un parco in cui vengono segnalate diciamo delle attività meritevoli di attenzione ma anche all'interno dei nuovi parchi il secondo lotto e il terzo lotto di Loseto è già vista comunale il PD Barese parte dai forum su ambiente e welfare la segreteria cittadina dei DEM intanto avvia le consultazioni con le forze politiche del centro-sinistra in vista delle urne del 2024 il PD Barese accelera sulle comunali i due forum e poi le consultazioni con gli alleati il primo passaggio già nelle scorse ore per discutere e inaugurare i forum ambiente e welfare in un doppio appuntamento destinato a chiudersi venerdì di pari passo i faccia a faccia della segreteria cittadina con le forze del centro-sinistra per arrivare alla convocazione della convenzione del centro-sinistra obiettivo concludere la serie di bilaterali in pochi giorni esattamente lo stesso schema utilizzato dal numero 1 regionale De Santis con i partiti di via gentile parano ad ordine scongiurare qualsiasi fuga dal centro-sinistra intanto si traccia un bilancio con la cittadinanza a partire dall'ambiente il PD è stato protagonista in questi anni su tante tematiche di natura ambientale sulla riqualificazione di alcuni spazi declinati al green anche sullo spingere la raccolta differenziata ma lo vuole essere protagonista anche in futuro ed è per questo che allargando anche il tema della tutela degli animali e anche dell'ecosistema e della fauna selvatica ha organizzato oggi questo incontro cercando di mettere intorno a un tavolo diversi militanti diversi esperti soprattutto con la voglia di chi ama la propria città e la vorrebbe sempre più verde questi anni abbiamo fatto tanto anche con l'amministrazione ci siamo aiutati l'un l'altro quindi la nostra partecipazione oggi è per dire all'amministrazione che nei prossimi anni saremo sempre più presenti nei territori vogliamo tutti quanti contribuire a cambiare questa città perché questa città può diventare veramente un fiore a rocchiello per tutti quanti In arrivo nuove attrezzature al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria L'ospedale Bonomo di Andria apre la sua rinnovata ala del pronto soccorso dopo le modifiche strutturali e l'implementazione di macchinari e attrezzature sanitarie l'operazione servirà a decongestionare gli accessi 30.000 nell'anno solare 2022 fornendo nuovi strumenti per agevolare il lavoro delle equip mediche nuova sala d'attesa nuova zona per il triage infermieristico 5 postazioni in area di sbavellamento 6 postazioni in area di nucleo assistenziale avanzato e 11 posti di osservazione breve intensiva Finalmente questo pronto soccorso si adegua ad uno standard che oramai è regionale anticipando il trattamento dei pazienti meno gravi in una struttura che si chiama nucleo assistenziale avanzato nel quale gli infermieri hanno un grande ruolo un grande compito quello di intercettare i codici minori anticiparne con la realizzazione di esami di sangue di elettrocardiogramma il trattamento affidandogli al medico perché rapidamente si concretizzi l'assistenza e la dimissione del paziente Il costo dell'operazione è di 122.000 euro somma interamente finanziata attraverso il decreto rilancio centrale anche la questione organico recentemente bandito un concorso a tempo indeterminato per 15 dirigenti medici in modo da implementare il personale operativo del Bonomo Andava fatta questa rifunzionalizzazione del nostro pronto soccorso dell'ospedale di Andria intanto anche per dare attraverso appunto la rifunzionalizzazione della sala d'attesa anche una dignità maggiore ai nostri pazienti il che ci consentirà anche di evitare le code che spesso si creano in questa struttura dove gli spazi sono piuttosto limitati delle ambulanze nella zona esterna quindi già questo insomma consentirà un più facile afflusso e poi anche per coloro che accedono autonomamente Finisce qui anche la nostra pagina dedicata alle province di Bari Labat e Foggia potete continuare a consultare tutte le notizie sul nostro sito www.antennasud.com sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook adesso linea ai colleghi per le notizie da Brindisi Taranto e Lecce io vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo